salve amici e amiche allora eccomi con il secondo video di oggi dedicato all'incursione ucraina nella regione di kursk tenendo d'occhio i principali blogger su telegram e x e le notizie che arrivano per più ufficiale dai media russi la situazione sembra essere ancora fuori controllo e le forze ucraine sono riuscite ad avanzare ulteriormente nella regione in questa animazione viene spiegato più o meno cosa sta succedendo era troppo spassosa dove dovevo farvela vedere a parte gli scherzi arrivano alcuni video da parte dei residenti di sudda dove mostrano come siano stati evacuati i civili e adesso si ritrovano con lo status di rifugiati in un altro video un cittadino russo che abita nella regione di kursk racconta come l'esercito russo viene cacciato via dall'esercito ucraino la sua testimonianza è preziosa perché dice delle cose molto interessanti dice di essere stato in centro a sudca dove non ci sono danni significativi agli edifici dice tutto è più o meno intatto a parte la caserma il checkpoint che è stato distrutto e la bandiera ucraina dice sventola sul municipio racconta di aver visto molti soldati ed equipaggiamenti ha pensato di prendere così una foto di avvicinarsi ma un soldato ucraino lo ha fermato gli ha controllato i documenti racconta dice non è stato scortese niente del genere mi ha semplicemente detto che fare foto o video non era consentito a quel punto racconta gli ho chiesto cos'è che dobbiamo fare adesso cosa accadrà e il soldato ucraino gli ha risposto dicendogli impara l'inno nazionale ucraino e preparati per il referendum lui a questo punto dice sono rimasto scioccato onestamente non mi interessa più quale bandiera usiamo purché ci sia la pace fra l'altro dice se i nostri non riescono a proteggerci magari alla fine gli ucraini riusciranno a farlo arrivederci ovviamente non tutti i video che arrivano dall'oblast di kursk sono così i personaggi così stoici e pragmatici questa ragazza per esempio piangendo dice che non riesce a credere che la sua casa non c'è più e che deve evacuare con la sua famiglia e poi ricorda alle persone di non dimenticare i loro animaletti domestici ovviamente no qualcuno potrebbe dire forse sei stata anche tanto fortunata se fossero stati i russi a invadere la tua casa in ucraina non sarei stata così fortunata da raccontare le cose comunque è bello il commento che in cui gli si dice piccola perché piangi volevi l'ucraina in russia giusto bene l'ucraina è appena entrata in russia quindi allaccia le cinture ora arriveranno certamente altri video da queste da queste aree ma in generale le truppe ucraine hanno semplicemente chiesto ai civili di allontanarsi con molta civiltà e ci sono stati scontri a fuoco con i soldati russi non è che tutti si sono arresi in massa alcuni civili russi si sono lamentati di questo e che i corpi dei soldati sono stati lasciati a bordo strada ma come dire no c'è una guerra in corso e giustamente sempre nei commenti qualcuno ha fatto presente che durante i primi giorni di invasione della russia nel 2022 i russi facevano la stessa cosa ma non con i soldati ucraini lo facevano con i civili ucraini devo anche segnalare una cosa che mi ha fatto letteralmente rivoltare lo stomaco su sempre su telegram e x stanno fioccando letteralmente canali e molti sono italiani sono non so se sono persone reali o meno spesso sono ragazze quindi presumibile che siano bot però il fatto postano vecchie immagini di droni che colpiscono i soldati attribuendo a soldati russi che uccidono soldati ucraini insomma cercano in tutti i modi di fare falsa informazione i messaggi sono ovviamente che la russia sta vincendo su tutta la linea e che gli ucraini sono mostri che fanno le peggio cose ai civili onestamente questa cosa mi ha fatto specie perché x social internazionale in questo momento quando vedo la bandierina italiana nel profilo di un di un blogger accanto a quei post mi vengo mi vergogno profondamente del mio paese mi vergogno per loro detto questo per oggi cercherò di fornirvi gli ultimi aggiornamenti della situazione sul campo anche se lo ripeto e questo l'ho detto anche nel video precedente è troppo presto per fare speculazioni ed analisi militare le notizie si susseguono troppo velocemente e in tutto questo poi c'è l'enorme contaminazione delle informazioni soprattutto da parte dei media russi e del cremlino che ovviamente non vuole assolutamente che il resto della russia sappia cosa sta succedendo bisogna prendere questa operazione poi o raid condotto dall'esercito ucraino nella regione di kursk per quello che è qualcosa che abbiamo già visto nelle incursioni nei territori occupati precedenti ma a sto giro con una scala più grande con più numeri più mezzi e più uomini tutto qui quindi è molto difficile dire cosa accadrà adesso da una parte le defezioni le dozzine e dozzine di soldati russi che si arrendono hanno dimostrato che la regione non era difesa per nulla e che la russia non si aspettava niente del genere questo fatto ha posto ulteriormente la questione sulle cosiddette coscrizioni da parte russa che arruola a forza giovani e disadattati che ovviamente non hanno nessuna voglia di combattere dall'altra parte è anche vero che la morte di migliaia di soldati presi dalle carceri o dalle regioni remote della russia non importa nulla all'opinione pubblica alla televisione di mosca per intenderci mentre se nel caso ci fosse un'emergenza così dichiarata da coinvolgere e reclutare anche le il ceto medio i figli dei benestanti moscoviti e magari questi iniziassero a lasciarci la pelle beh no l'opinione pubblica potrebbe percepire la cosa molto diversamente e le cose potrebbero cambiare quindi è molto difficile dire adesso cosa accadrà da un lato è evidente che questo attacco ucraino ha avuto lo scopo di creare un grosso diversivo e forzare la russia a muovere dei soldati più capaci da un'altra parte a questa regione più capaci di qualche ragazzo dei servizi di leva insomma e muoverli dalle regioni dove c'è più pressione a sud per andare a difendere la regione di kursk dall'altra non sappiamo se nelle prossime ore o giorni gli ucraini riusciranno a fortificare queste posizioni in questa dozzina di villaggi conquistati e quest'area si trasformerà e rappresenterà un vero e proprio nuovo fronte ma questo a sto giro sul territorio russo il mio pensiero in sostanza è che bisogna essere molto cauti nei giudizi non possiamo escludere niente per adesso non possiamo escludere che gli ucraini si ritirino tanto velocemente quanto sono entrati quindi tutto può accadere bisogna anche aggiungere che il portavoce del cremlino scusate il portavoce del governo ucraino ha rotto il silenzio poche ore fa su questa operazione militare nella regione di kursk e ha detto che la guerra è guerra e fra l'altro gli è sfuggito un dettaglio molto interessante che riguarda anche la regione di belgorod come vi ho anticipato nel video precedente ha detto che questa azione è il risultato dell'aggressione della russia di questi due anni cito le sue parole la russia ha costantemente creduto di non essere soggetta a norme legali restrittive e quindi di avere la capacità di attaccare impunemente i territori dei paesi vicini e di pretendere ipo ipocritamente l'inviolabilità dei suoi territori ma la guerra è una guerra e ha le sue regole e nella quale l'aggressore raccoglie sempre i frutti adeguati ha raggiunto quello che quello che semini raccogli in sostanza anche alexei ocarenco politico ucraino e deputato del popolo ha commentato la situazione affermando che l'offensiva mira a costringere la russia a dirottare le truppe nell'aria riducendo potenzialmente il livello degli attacchi nell'ucraina orientale quindi ecco non sono ovviamente entrati nei dettagli ma il fatto che abbiano citato belgorod è piuttosto importante non a caso pochi minuti fa i residenti a belgorod hanno pubblicato dei video dove si vede la difesa aerea in azione è un incendio che ha coinvolto delle auto su una strada in piena in centro in città non è da escludersi che un drone ucraino sia stato abbattuto e sia precipitato sulla sulla strada in città però questa è solo la mia speculazione vedremo nei prossimi minuti cosa verrà detto e questo è quanto per oggi il report della situazione finisce qui come sempre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti cercherò di fare possibile per tenervi aggiornati anche domani come sempre vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un mi piace un abbraccio alla prossima